In base alla sentenza della Corte d'Appello, lei e Marucchiello sareste i mandanti di questo delitto? Lei d'accordo con Marucchiello ha spinto Ottavio, la persona in un certo senso più debole, la persona che si vantava di essere un uomo di coltello e di pistola, che voi l'avreste spinto a uccidere? No, non esiste proprio, niente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mattina del 30 settembre 1991 in un vialetto isolato nei pressi del cimitero di Mondragone viene ritrovato, ucciso da cinque colpi di pistola, il corpo di Enrico Piscitiello, 46 anni, sposato e padre di otto figli. Una serie di indizi rinvenuti dai carabinieri sul luogo del delitto portano al fermo di due ragazzi, Michele Marucchiello, 20 anni, da tempo amante della moglie di Piscitiello, Petronilla D'Agostino, e Ottavio D'Ambrosio, 17 anni, convivente di una delle figlie della vittima. D'Ambrosio? Mi pendi di quello che ho fatto? Sono molto pendito di quello che ho fatto. Tutt'ora oggi non sai come mi trovo un drogace. Ottavio D'Ambrosio confessa subito di essere l'esecutore materiale del delitto e insieme a Marucchiello indica in Petronilla D'Agostino, che si protesta innocente, la mandante dell'omicidio. In nome del popolo italiano, la corte di Assise, dichiara Marucchiello, Michele e D'Ambrosio e Ottavio colpevoli del reato loro scritto al capo A, condanna ciascuno alla pena di anni 22 di reclusione. Il 22 ottobre 1992, la corte di Assise di Santa Maria Capo Avetere, condanna Michele Marucchiello e Ottavio D'Ambrosio a 22 anni di reclusione per il reato di omicidio volontario premeditato e assolve Petronilla D'Agostino per non aver commesso il fatto. E ne ordina la scorcerazione se non detenuta per altra causa. L'udienza è colta. Il 10 novembre 1993, la corte di Assise d'Appello di Napoli conferma la condanna a Marucchiello e D'Ambrosio e condanna Petronilla D'Agostino a 23 anni di reclusione perché è ritenuta colpevole, a titolo di concorso morale, dell'omicidio del marito, sentenza poi confermata in Cassazione. La passione, il rancore, la gelosia, è tutto questo signora Petronilla che ha dato origine alla tragedia per cui lei è uno sconto a 23 anni di carcere. Sì, è tutto questo, però io sono 100. Quanti anni ha? Io 43. Dove è nata lei? Mondragù. Mondragù dove è? Mondragù, dove? Dov'è? Vicino a Napoli? No, vicino a Cassetto. Vicino a Cassetto. Com'era la sua vita in famiglia, nella sua famiglia di origine? Era bua. Con il tuo papà, con la sua mamma, ecco, anzitutto quanti figli eravate? Sei. Sei figli. Papà che lavoro faceva? Faceva il facchino. E spamava da solo tutte queste cose? Sì, sì, da solo. Mamma non lavorava? No, mamma no. E lei da ragazza come viveva? Ecco, anzitutto, lei è andata a scuola? No, sembra lavorare. Quindi lei era analfabeta? Sì. È analfabeta tuttora? Sì. E i suoi fratelli sono andati a scuola? Sì. Quindi lei sola non è andata a scuola? Sì, io so. Perché lei lavorava? Sì. E poi cosa faceva? Com'era la sua vita? E quando andava a lavorare, poi doveva stare a casa, fa accenda di casa. Ma per esempio a ballare, c'è andata mai? No, mai. Possibile? Sì, possibile, mai. In giro, con i compagni, con i ragazzi. Fa una passeggiata così. Basta? Basta. Però lei era una bellissima ragazza, certamente avrà avuto tanti corteggiatori in paese. Sì, tanti, sì. Ce l'ha vera? Sì. E questi corteggiatori non le piaceva nessuno? Eh. Eh? Come? Non mi piaceva. Quindi c'aveva qualche moroso, qualche moroso lavora? Sì, c'aveva, sì. Eh. E poi, per esempio, si è sposata giovane lei? Sì, a 19 anni. Lei ha sposato Enrico Piscitello? Sì. Come l'ha conosciuto? A casa di mia sorella. E come è stato, insomma? Come l'ha incontrato? Cosa è? Sì, io sono andata a casa di mia sorella e lui stava a casa di mia sorella. E allora che è successo? E che è successo? Lui disse vicino a me, sei una bella ragazza, ti vuoi metto a fare l'amore con me. La prima cosa ci attendeva, poi dopo che sì. Ed era innamorata di suo marito quando si attendeva? Sì. Ogni anno uno. Quindi ogni anno uno per otto anni? Otto anni e otto figli? Sì. Ma con il matrimonio, ecco, la sua vita è migliorata, è peggiorata? Com'è stata la sua vita con il suo marito? È peggiorata. Perché? Perché mio marito si è tutti i giorni imbriato. Non lavorava. Io dovevo andare a lavorare per campare i miei figli. A fare tutto l'arte. A diretti un uomo di ammezza, a scuola strada, dentro cimiteri, con i fagiolini, pomaroli, tutto, a fare cipolle a notte, tutto. Quando ha cominciato a bere il suo marito? Un anno e mezzo dopo è sposato. E quindi, ma i soldi, lui non lavorava? No, non lavorava. Qualche volta che lavorava, si riprendeva, e si può si impiegare. Beveva molto? Sì, molto. Ma chi glieli dava i soldi per te? Non lo so. Come non lo so? Che ne so, io certo non ci potevano, perché io faccio mangiare i miei figli. Ma che tipo di uomo era? Al di là del fatto che beveva, che tipo di uomo era il suo marito? Che tipo di uomo? Un uomo impiegato, che tipo di uomo poteva essere? Scusate. Quindi, lei mi diceva che... Quando ero sempre, quando ero a casa, mi rompevo tutto il coso, mi minacciavo i miei figli, mi patrero, tutto. Ma lei perché ci ha fatto tanti figli, se era così difficile la vita con lui? Gesù è... che ne so, così è stata, mi piace fortuna. Vabbè, figli non sono una sfortuna, ma lei... Eh, così è stato, ma... Andava così. Quindi lei mi diceva che, in effetti, la famiglia la manteneva lei? Sì, sempre io. Parliamo un po' che lavoro faceva, me lo racconti bene? E io faticava tre misalanne, a Bitello. E faceva tre misalanne, mi aveva 20 soldi, mi faceva mangiare i miei figli. Dopo di questo andava in campagna a cogliere fagioli, a fare cipolle, tutta, tutta l'arte che si poteva fare. Le cipolle? Che io favo le cipolle la notte, la mattina io vado a casa e mi partorrei pure. Intimente, cioè la notte cogliava le cipolle? Eh. E la mattina? Andava a casa che mi partorrei e mi partorrei pure. Senta, ed è una cosa faticosa a raccogliere le cipolle. Aspita, non è faticosa. Che cosa succede agli occhi? Eh, ci abbrucino gli occhi. Purtroppo era faticato perché i miei figli come mangiavano. Quindi praticamente la situazione era questa. Lei lavorava, suo marito beveva. Sì. Ma per esempio, suo marito, lei mi diceva, era violento? Violento, quando veniva a casa mi rompeva tutto, mi aveva picciata la casa, tutto. La picchiava pure? Sì. Però lei si difendeva pure, perché al processo è emerso che anche lei era piuttosto manesca con suo marito, che lo picchiava di brutto. Noi, mai. Mai? Mai? Mai. L'orità perché diceva sempre, ma perché ti impiace tutti i giorni e lui non mi ha scortato? Ma non è che non esiste proprio. Non lo picchiava? Mai. Allora, le voglio leggere invece, la testimonianza resa il processo da un suo nipote, da un figlio di sua sorella. Mio zio aveva il vizio di bere e spesso tornava a casa ubriaco. Mia zia Petronilla lo picchiava, anzi lo maltrattava. No, non esiste proprio. Lo insultava e a volte sono dovuto intervenire io per cercare di non farli litigare. No, non esiste questo. Ha detto una bugia? Mai, ha detto una bugia. Ma dopo si diceva, no, io non voglio parlare più. E perché avrebbe detto questo? Eh, che ne so. Se non è la manesca un pochino. No, io no, mai. Senta, ma lei ha mai pensato di lasciare suo marito? No, mai. Con tutta questa vita difficile? No, mai perché avevo i dati, io non ero come un bambino ormai, che ormai è uno che va a fare, si è abbracciata la croce e basta. Senta, lo sa che a Mondragone si facevano molti pettegolezzi su di lei? Dicevano che lei aveva tanti amanti. Il paese è così. Dicevano che lei aveva tanti amanti. No, non esiste. Ma sapeva che si facevano questi pettegolezzi? Ma sì, ogni paese sta queste cose. Poi con le belle donne. Però a un certo punto un amore lei lo ha avuto. Sì. Michele Marucchiello. È una storia che è cominciata sui banchi di scuola. Sì. Lei perché andava a scuola serale? Andavo a scuola serale, mi vogliava terza, mi doveva andare a lavorare fissa. Comune mi poteva fissa a lavorare, non è che faceva sempre tre mesi all'anno. Perciò andavo a scuola. E quindi lei si è presa il diploma di terza media? Ma lei non mi ha detto che è un alfabeta? Sì, sono alfabeta, però il professore aveva pure più atta che aveva tanti figli. Mi doveva andare a lavorare. Oddio, mi è stata la terza media. Insomma, lei è alfabeta, come dice lei, però ha la terza media. Sì. Quanti anni aveva Michele quando lei l'ha conosciuto? Aveva Bocchinsacci. Michele gli aveva domandato quant'aveva. Ve lo ricordo io? Sì. Aveva 17 anni. Sì. E che lavoro faceva Michele, se lo ricorda? Faceva Barbieri. Barbieri. E lei ricorda quanti anni aveva invece lei quando ha conosciuto Michele Marucchiello? No. Ve lo devo ricordare sempre io? Sì. Aveva 37 anni, quindi praticamente vi passate 20 anni. Sì, è giusto. Ma l'amore è cieco, non ci stanno... Non è un problema di età. Lei si trovava bene con un ragazzo anche tanto più giovane, vero? Sì. Senta, ma questa storia, com'è iniziata questa storia d'amore fra lei e Marucchiello? È iniziata a scuola, lui ha cominciato a fare dei biglietti, cose, questo, quell'altro. Che lei diceva? Cosa faceva? Eh, che mi diceva? Dice, tu sei una donna sfortunata, tuo marito, io lo voglio sempre ambriaco, questo, chell'altro. E perciò pure è stata questa cosa che io mi sono messo con Michele, perché altrimenti si aveva un marito perfetto e non mi ci metteva. Marucchiello, venga avanti. Quello che stanno dicendo sono tutto i bugie. Io da Cristino l'ho conosciuto circa tre anni fa, la scuola serata, come già ha dichiarato lei. Però non è stato io che gli ha fatto le proposte amorose a lei, è stata lei a propormelo a me. Perché siccome io ero 17 anni, ero ingenuo, e diciamo non ancora avevo avuto rapporti con una donna, no? La sincera verità. Tutto questo nacque da un profumo. Io siccome che fuori sono parchiore per uomo, e usiamo molti prodotti di profumo, questa roba qua, lei si innamorò di un profumo che avevo io addosso, e mi chiese perché non mi dai anche a me un profumo di questo. E dal profumo è nato questo amore, che lei trovava fascino per me, non so cosa trovava, ancora adesso non riesco a capire. E lei mi disse, dice a me, perché non mi viene a trovare dove lavora? Se lei lavora con un'impresa di polizia, e io gli stia vicino a lei, ma quando mai? Non esiste proprio, io vado a lavorare. No, ma non ti preoccupare, io ti faccio fianzare con i miei figli. Ma a me non mi interessa i tuoi figli, perché mi devo fianzare con i tuoi figli? Ma i figli non ti preoccupare, io. E da fuori questo qua, nacque io e lei, ci siamo messi in giro. Però non è partito da me a fare la proposta. Il fidanzamento con la figlia doveva servire di copertura? A suo modo. No, io non lo so, perché poi dopo mi disse, vicino a me, vieni a casa. E' una giustificazione della vostra frequentazione della casa? No, no, no. Che poi poi mi disse, vicino a me, vieni a casa e fai i capelli ai bambini. Seveva Ottavio a freddo. E disse, vabbè, dimmi tu quando devi venire e io vengo. Era di domenica. E lei stava a casa, lei con il marito. Io mi presentavo al marito perché non lo conoscei. Fece anche i capelli al marito e ai bambini. E venne un'altra nipota che si voleva fare i capelli al figlio della nipota. E disse, no, no, io me lo devo andare. No, è impossibile, perché c'ho da fare, perché devo andare a pesca. E la domenica, lunedì, quando sono di festa, vado sempre a pesca. Tutta la mia giornata va sempre a pesca. Da fuori i capelli continuavamo a frequentare a scuola. E lei mi scrive i bigliettini. Che sentendo se è scritto, ti amo Michele, sei tutta la mia vita. Da quando ti ho visto, mi sono rimasto impressi. E io non pensavo, chi è questa? E giustamente dice, ma chi è questa cacca a te? Poi un giorno, passate il giorno, lui mi fece capire. Dice, Michele, tu mi piaci, voglio stare insieme con te. E io gli sposo, è impossibile, perché tu hai 38 anni. Io ho 17 anni, posso essere un figlio di tu. Ma no, trovate un tuo paraggio, trovate un tuo paraggio. E lei dice, no, no, io voglio stare insieme con te, insieme con te. Poi incominciò la relazione. E però io continuavo a fare i capelli al marito. Io ho un buon rapporto con il marito. Marucchiello ha detto che tutto è nato da un profumo. Ecco, me la vuoi raccontare la storia di questo profumo? Sì, è un profumo a scuola, con il biglietto di C. Era un profumo di Marucchiello? Sì. E lei che l'ha offerto? Beh. Ecco. Però, quindi, io voglio capire chi dei due si è fatto avanti? Lui. Lui? Cioè è stato lui a farle la corte, a insistere? Quindi non è stata lei a seguirlo, a civettare con lui? Non esiste. È stato lui? È stato lui. E come gliela faceva, me la racconti questa corte che le faceva Marucchiello? Ecco, la sera a scuola mi faceva dei biglietti, cose, queste. Certo, gli uomini come fanno? Vabbè, non lo fa a modo suo. Io, come lo faceva lui. Sempre così, mi diceva, tu hai un marito embriaco, non te l'affetto, non te l'affetto, non te l'affetto, i tuoi figli li minacciano sempre. È stata una cosa più che altro di un conforto, di parole che facevano un po' così, ma neanche del sesso. Ecco. Vabbè, ma... È stata una cosa più... Era anche un fatto di sesso. È un fatto di sesso, dopo sì, ma è stata una cosa più da... De parole che riceve, ecco, che voleva bene anche i miei figli, che ne ha fatto mio marito. Ma lei l'ha amato, Michele Marucchiello. Sì. Quindi, in realtà, che cosa l'ha fatta veramente a emanorare di lui? Di queste parole affetto che riceve. Marucchiello ha detto che lei è stata la prima donna della sua vita. Sì. Che lei gli ha insegnato l'amore. Sì. È così? E quindi è stato questo che teneva Marucchiello così legato a lei? O tassi, è stato questo. Era un fattore importante. E per esempio, dove vi incontravate voi due? Eh, insomma, della famiglia, quando poteva sci, riuscire. E dove vi vedevate? Dove vi incontravate? Cioè, in una passeggiata con la macchina. Eh. Lei era una donna libera? Oppure doveva rendere conto di quello che faceva? No, mio marito è stato tutti i giorni imbriaco, io non mi avevo fastidio. Cioè? Riusciva e faceva quello che voleva. Quindi lei non rendeva conto a suo marito di quello che faceva? Era abbastanza libera. Ma per esempio, in paese si sapeva di questa relazione? Sì. Ma lei importava che se ne parlasse? Ecco, il giudizio della gente a lei importava? No. E invece, per esempio, i suoi figli in casa, sapevano che lei aveva una storia d'amore con questo ragazzo? Sa, immaginavano, non è che sapevano tutto. Ma le dicevano qualcosa? Come reagivano? No, non c'era niente i miei figli. Non ne parlavano? Che se era una cosa che si aveva immaginato loro, non è che... Eh, avevano immaginato nel modo giusto. Senta, ma ecco, Marucchiello conosceva suo marito? Allora, quando è successo, questo no. Poi dice che lui, mio marito andava a casa, aveva minacciato, non so, perché lui si prendeva a casa. No, ma risulta, dalle carte processuali, risulta che Marucchiello non solo conosceva suo marito, ma che andava a fargli i capelli, che veniva a casa a fargli... Sì, sì. Sì, è vero, veniva a casa a fare i capelli a suo marito e ai suoi figli, vero? Quindi, ecco, ma suo marito non si era accorto di nulla. No. Quindi non aveva nessun sospetto. No. Insomma, sulla sua infedeltà non aveva nessun sospetto. Ma era geloso di lei, suo marito? Sì, molto. Quindi era una persona che, insomma, poteva arrabbiarsi anche molto, se l'avesse immaginato. Quindi gliene importava, insomma. Gesù, se l'avesse immaginato è logico, se era nervoso io. E Marucchiello? Era geloso di lei? Sì, molto. E come gliela dimostrava questa gelosia? Eh, come la dimostrava? Riceveva vicino a me, doveva fare i cani, doveva fare i miei figli. Cioè lei non doveva andare a lavorare? Poi, per esempio, che altre cose le proibiva? Cos'è che non... Tutta, pur se aveva macelleria, dove ci veneva io. E lei era gelosa di un ragazzo poi così più giovane di lei? No, io non ero molto gelosa, no. No. In tutto, quant'è durata la sua storia d'amore con Michele Marucchiello? C'è successo, non mi ricordo quando ero ruota. Perché quando è successo il fatto di mio marito, io stavo litigato con lui. Glielo posso ricordare io? Sì, sì. È durata tre anni, complessivamente. Ecco, io appunto, lei mi diceva di suo marito, quanto tempo prima della tragedia, suo marito ha scoperto la vostra relazione? Ah, sai molto dopo, perché lui stava sempre ubriaco, non ha, come va già dicendo, non è che poteva essere un uomo che poteva realizzare tutto questo. Il fatto che ero ubriaco lo teniva impegnato in altro. No, però, io vorrei sapere quanto tempo prima della tragedia, prima del delitto, suo marito ha scoperto che lei era l'amante di Marucchiello. È un anno prima, un anno. Un anno? Perché dalle carte del processo risulterebbe tre mesi prima. Lei non mi ricorda. Lei non si ricorda. Ecco, come l'ha saputo suo marito? E non lo so. Cioè, non immagino che possa averglielo detto? No. Pettegolizzi di paese? Non lo so. Quando suo marito ha saputo che lei aveva una relazione con Michele Marucchiello, come si è regolato con lei? Niente, a me ne ha mai detto niente. Era geloso di lei, suo marito? Sì. E come lo spiega allora che un uomo geloso viene a sapere che la moglie ha una relazione con un altro e non dice niente? E come se lo spiega? E che ne so questo? A me ne ha mai detto niente. È andata a casa di Michele, Michele mi ha detto che io si era a casa e mi minacciava e tante cose. A me ne ha mai detto niente. Quindi lui è andato a minacciare Michele? Sì. Però a lei non ha detto niente. Non niente mai. Posso dirle che non le credo? No, questa è la verità. Io non le credo. Io sto dicendo la verità. Perché il suo marito era infuriato per questa relazione. Perché tant'è che una sua nipote ha detto che il suo marito, dopo aver saputo che lei aveva una storia d'amore con questo ragazzo, ha detto che lo avrebbe ammazzato. Quindi il suo marito era molto irritato per questa cosa. Sì, era arrabbiato. A me ne ha mai detto niente. È un po' illogico quello che lei mi dice. Sì. È vero, è illogico. Perché lei è riuscita a spiegarselo perché quest'uomo non le ha detto niente. Io personalmente non le credo, però lei mi dà... Questo pure che lui mi voleva fare la vostra attesa, che ne so. Non mi dice niente a me. Non lo so. Voleva trovarla sul fatto? Penso. Ho capito. Però non ci è mai riuscito a trovarla sul fatto. E allora, fra lei e Marucchillo cosa è successo? Mi siete lasciati? Sì, io c'era giusto, sì, dove va via, dove va via, perché ormai se io ho sbagliato e basta. Tutto fa via, dove mi faccio via. Quindi vi siete lasciati dopo che suo marito ha scoperto questa relazione? Sì, dopo. Ed è stata lei a dire? Basta, sì. Basta. E lui mi dà la fanata, sempre diceva, no, basta, è finito e basta. Quindi lui insisteva? Sì. Voleva che questa vostra storia d'amore continuasse? Sì. E non sono stato meggio geloso di lei. Poi riguardo alla relazione, io ho detto io a lei, stronghiamo la relazione, perché io avevo 19 anni e lei aveva 40 anni. Io mi dovevo trovare una ragazza della mia stessa età perché mi dovevo sposare. Invece lei, no, mi continuava a dire, no, io voglio stare con te, con te, con te. E qualche volta mi dice qualche parola per telefono. Però io non volevo stare più con lei. Era lei che mi importunava. Erano 4-5 mesi, 3-4, 5, che già non stavamo più in zio. Cioè, c'eravamo proprio a lascicare. Anzi, e la buonana mi andavamo d'accordo. Se mi arriva a fare i capelli da me, è stato ricoverato parecchio tempo all'ospedale, io andavo a fare la barbie, io andavo a fare i capelli. E lo sanno tutti. Poi non ho mai venuto a casa mia. L'è ormai venuto a casa mia a fare il mare. 17 anni, non lo so. 17 anni. Ecco, come... Ma Ottavio viveva a casa sua? Sì. Non è che viveva a casa mia. Io andavo a lavorare e ho portato a mia figlia. Mia figlia aveva 14 anni. Mia figlia mi chiamava a casa, mamma, mi sono in mezzo a strada. E io sono mamma, mi potrei fare a mia figlia in mezzo a strada, perché sei piccoli. Cioè, non è venuto a venire a casa. Mio marito non voleva, perché aveva traseva mio genno in casa. Cioè, va bene, ma che nemmeno i ragazzi? Invece no, non sono mai giusto da cercare. Non è appena un discorso vicino a casa e mia figlia non lo faccia. Dice no, io devo andare perché oggi ho fatto dei fatti miei. Mia figlia si pensava chissà, non lo manda. E se mia figlia ha buttato, ma là deve fare questa casa. E si ritirava la mattina a presa. Quindi, ricapitolando, lui ha fatto la fuitina con la sua figlia, ha fuggito con la sua figlia. Sì, ha fuggito. E lei se l'è presa. Sì. Ha accettato di tenerla in casa. Sì. Perché Ottavio viveva a casa sua e non a casa dei suoi genitori? Perché i suoi genitori, ma certo tu, la casa mi erano via. Non lo hanno voluto? Non lo hanno voluto. E lei perché lo ha accettato a casa? Perché mia figlia, se è piccolata, nei 14 anni, mica poteva fare a mia figlia metà strada. Quanto era grande la sua casa? Due. Due case. Due camere? Due camere. Due camere. E quante persone eravate? Otto. Più due? Più due. Dieci, undici. Otto due fa dieci. Più lui era undici, più Ottavio era undici. E non stavate uno sull'altro? Eh sì, purtroppo una mamma fa i sacrifici per i figli. Lui aveva un comportamento... Male. Violento con sua figlia. Sì, male. Con sua figlia. Con mia figlia, sì. Male vuol dire che la picchiava? La picchiava tutti i giorni. E la picchiava perché la picchiava? Perché mia figlia non voleva... Lei sa che Ottavio a processo ha negato questo? Sì, ha negato tutto. Ha detto che non è vero che lui picchiava la sua figlia, che lui si regolava bene, che... Non è vero invece. Ecco. Lei ha mai visto a Ottavio una pistola? Io no. Ma non avete mai pensato di buttarlo fuori casa? Voi eravate padroni di casa. Sì, ma quando mio marito ci ha detto, ma lui se n'è andato mai. Vabbè, insomma, proprio dire, i padroni di casa eravate voi. Sì. Ma lei era la mamma, lui era il padrone di casa. Buttarlo fuori non ci voleva mica tanto. Perché poi Ottavio, lei sa bene che il processo ha detto che non è vero questo. Ottavio ha smentito. Ma lui poteva dire quello che voleva, che è stato un ragazzato che non si è vero niente. Però perché se questo ragazzo era così violento, manesco, cattivo? Lei ha detto pure che era maruiolo, se non sbaglio, no? Sì. Che vuol dire maruiolo? Eh, era rubato, che non sa cosa vuol dire? Se faceva spineglia, che so, se spineglia non mi sa. Ah beh, lo prendevate e lo sbattevate fuori casa? Eh, ma ci ha metto parecchie volte. Non potevano proprio afferrare quella patina a sbattere fuori. Per una cosa uomale. Perché no? Sì, perché no, oddio, uno era passato in guaglia, e aveva otto figli. Ma è vero che Ottavio la chiamava mamma? No, mai. Qualche volta. Sono le 18.30 del 29 settembre 1991. Ottavio porta Piscitiello in un luogo che resterà imprecisato e gli spara addosso cinque colpi di pistola a bruciapelo. Più tardi Ottavio D'Ambrosio e Michele Marucchiello, amante della moglie di Piscitiello, Petronilla D'Agostino, tornano sul luogo del delitto, caricano il cadavere di Piscitiello sull'auto di Marucchiello e lo abbandonano in un vialetto nei pressi del cimitero di Mondragone. Una perquisizione a casa di Marucchiello, in cui viene rinvenuta una giacca sporca di sangue, complementare al pantalone ritrovato sul luogo del delitto, porta al fermo del giovane, che accusa Ottavio di essere l'esecutore materiale del delitto. D'Ambrosio, riconoscete questi indumenti come vostri o come appartenenti al Marucchiello o a chiunque altro? No, io ne lo conosco. Non lo avete mai visto? Non lo avete mai visto. Ad Agostino li riconosce? Sì, lo conosco, era qua su qua. Sia i pantaloni che li indossava? In quali circostanze? Sì, quando andava a Piscare, non lo so. Io ho sempre dichiarato che la giubba è miglio e ho sempre detto che il sangue che hanno trovato subito era sangue di pesce oppure di animale, non era sangue di essere umano. Dottoressa Conticelli, lei ribadisce che può essersi trattato solo di sangue umano, perché è rimutato, come ha sentito. Certamente, avendo trovato gli antigeni specifici, non è possibile che possa essere sangue di pesce, perché gli antigeni sono delle proteine specifiche della specie umana. I pesce non ce l'hanno, non avrei avuto risultato positivo. Ottavio D'Ambrosio confesserà tutto e insieme i due ragazzi diventeranno gli accusatori implacabili di Petronilla. Non ci sbaglio o no? Mi hanno guardato la vita a me, signor Giucci. Mi hanno guardato la vita a me. Io ci ho fatto una brutta fine, sì, è vero, la Giucci sì, però tutt'ora, io non lo so come che ha giucciso. Non lo so, mi hanno guardato. Arriviamo al giorno della tragedia. È il 29 settembre del 1991. Lei ricorda come si è svolta quella giornata? Come si è svolta? La sera è venuta la mamma di Ottavia, la sorella a casa, perché è il nome di mio figlio, Michele. È venuto a casa, mio marito è vicino a mamma, sono due figli e portatili, perché non è pane per i miei figli. Che i due figli venivano a prendere sempre e mi chiesto qua, ma io e il mio figlio non lo faccio e non lo faccio e non lo faccio e non lo faccio. Mi chiesto, c'erano i parenti di Ottavio che erano a casa in scuola. Ecco, però facevate la festa per Michela che era la ragazza di Ottavio, sua figlia. Nel corso di però questo pomeriggio risulta dalle carte del processo che sono arrivate tre telefonate anonime. Chi ha risposto a queste telefonate? Una volta mio marito, una volta mio figlio, è nato pure mio marito, se no non mi ci bagno. No, ha risposto Ottavio la terza volta. Ah sì, la terza volta, Ottavio. Ecco, Ottavio ha parlato con queste persone. Sì, ha parlato, va bene, ci vorremmo subito. E chi era questa persona? Mio figlio dice che è Michele, perché io non ci ho parlato. E come fa suo figlio a dire che è Michele? E perché dice che questo tempo parlò, mio figlio era conosciuto. Quindi non è che l'ha immaginato lei? No, no, no. Ha detto su lui? Io no. Ecco, quindi dopo questa telefonata? Ottavio si è messo il mio marito sul motorino e è andato. Ma poi dice che Ottavio ha chiamato Michele per il telefono, c'è via che dà già parlare. Michele dice, vieni, c'è via che mi vuole. Ero portato vicino a... Adesso non anticipiamo i tempi. Io vorrei andare per gradi e vorrei chiederle questo, sempre a proposito di questo pomeriggio, di come si sono svolte le cose. Lei mi dice che suo marito è uscito con Ottavio, che se l'è portato. Ma è stata lei a dire a Ottavio di portare con sé suo marito? No, è stata la mamma, la mamma di Ottavio. Perché lei lo ricorda cosa ha detto Ottavio? Sì, ha detto un bici di Ottavio. Io glielo vorrei ricordare cosa ha detto. Sì, sì. Ha detto che lei, ha detto a lui in quell'occasione, ma glielo aveva detto in altre occasioni, se non ti ritiri senza questo qua, io ti faccio, ti caccio fuori casa. Non è vero. Allora, da Ambrosio, Ottavio, rende le sue dichiarazioni spontanee. Che cosa dite sulla vostra posizione di accusato di omicidio nei confronti? Devo dire che io stavo insieme ai figli, no? Di questo pedronito. Cioè, non si è rifiuta, non si è rifiuta, no? Dalla casa. Ese proprio mi ha fatto finire insieme ai figli. Poi mi martellavo sempre. Tu c'era chiesto qua, mi ha chiesto qua amici. E mi ha detto, ma perché ero male amici? Chi è bravo? Eh, è un buono che stiamo, ma tu che buono amici? Chi è un buono che stiamo? Chi non lo sapeva? No, non mi f***o, ti caccio fuori, ti caccio fuori, ti caccio fuori, ti caccio fuori, e ti faccio la sua figlia, capito? Ti caccio fuori. Io le dicevo sempre che no, se le dicevo che no. Mi martellavo sempre. Sempre, oh, di un bel giorno. Seva a Rummenico, no? Seva tutto quanto a pranzo. Seva, il morto, quello morto, ero bravo, non faceva male, se non mi manca una mochica nel veronire, hanno luttato la coppa e bacio, hanno luttato la coppa e bacio, ogni sera se ne sbrirà a casa, questo è neanche però non trova fastidio, se ha aspettato, questo è sempre una coppia, un'altra coppa e bacio, e ti faccio troppo il costruito qua, questo è la mia figlia, un'altra coppa e bacio. E poi, come si diceva, se io andavo a pranzo a mangiare, e mi facevo bevuto, no? Mi avevo il bicchier di fila, mi avevo visto, e mi avevo abitato a bere, e poi non è vero come hanno detto violenta, che non è vero proprio niente io volevo bene alla figlia, la figlia stava, ancora oggi la voglio bene la voglio troppo bene, è la verità e questo dice, stavo tutto quanto a tavola adesso mi liavo e mi arrivo ai bicchieri qui e invece no io non voglio qui, non sei abituato a qui non ti preoccupare, però non sai come che la stai messa con, perché mi arrivo a dire questo con l'amantino, che stai mai cercando arrivo a dire da questi bicchieri e mi faccio bene tutto ad un tratto ma già dai sani non ho capito più niente mi sentivo un'altra persona, un altro uomo non ne ho capito niente perché mi stavo salendo piano piano cioè non sapevo come stavo, non mi ricordo mi sentivo diverso, non ero come stavo normale e mi sentivo diverso ho detto va, 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 va mi sentivo molto, cattavo per amuso ha detto vicino a me ah, mi sentivo molto, che stai pulito, no ha detto, ehi, quando l'uomo ha detto no, no, guarda male hai capito, hai capito? ha sentito ritirato a casa di questo qua ti caccia fuori ha spantato, mi dice devi ritirare i cili i cili vedete il burro ma l'ha ci portato per motorire sto dicendo, non toccare la verità mentre stava, eh invece di andare per la vita pensi di andare a motorire così è morto anche lui stava un po' privato non ha capito i morti anche lui stava un po' privato stava un po' bevuti, no? un po' bevuti perché essi, dicessi ci facevano tutti e due una mezza da te una mezza da te facevano e ci ha fatto un prego a tutti e due e siamo andati al cimitero e io avevo la pistola la pistola qua e lui stava andando a fare un bisogno e chi lo stava facendo? tutto ad un tratto ho visto lui che stava arrivando con quelle gande vedete presente i gande che stanno in campagna? quelle gande le mazze le gande e si stava avvicinando questa mia gamba non so come le vaccini io logicamente ho visto me l'ho immaginato strana tanto agli occhi miei come era un busto non so ho preso la pistola in cui ho iniziato a sparare seguire i migliori sparavano, non so però poi ho visto a te mi sono buttato come ero volevo prendere però non sapevo quello che io fare non hai fiuto hai giuto la casa su hai giuto qua ti hai fatto ti hai fatto ti hai fatto bravi vieni qua bracciando per ecco qua per ecco qua le frutte cose poi mi sono andata a casa e cosa si fa? dopo avessi sei mesi non so se chi che mi sono andata a Michele mi sono andata a Michele mi sono andata da là da là mi sono andata e si è venuta là appena ero morto nessuno non si è venuta niente mi sono andata e ci sono andata vorrei ricapitolare Ottavio al processo ha detto che lei ha insistito perché lui portasse con sé suo marito sapendo bene dove sarebbero andati non esiste hai tutto che pure il giudice ha detto se non ti ritiri senza questo qua io ti caccio fuori non è vero quindi non è vero che lei ricattava Ottavio perché diceva se tu non uccidi mio marito ti caccio di casa e non ti faccio scusare mio marito a me non mi faceva niente quindi lei quando suo marito è uscito con Ottavio lei non sapeva dove sarebbero andati no sapeva dove sarebbero andati sapeva che era a casa sui perché c'è la mamma c'è la porta da casa Ottavio quindi non gliel'ha detto no ecco la mamma di Ottavio vuol dire le ha detto portala a casa si ecco Ottavio si ricorda quanto tempo è stato fuori è uscito con suo marito quanto tempo è stato fuori si verso le 9 lui che è uscito si alle 9 è uscito di pomeriggio è uscito alle 6 è uscito è uscito alle 18 si ed è ritornato alle 21 non mi ricordo non mi ricordo è uscito alle 18 ed è ritornato alle 21 quando è tornato era solo si solo ecco lei gli ha chiesto dove era suo marito si diceva dove mio marito ci stava a mezza la festa perché c'era la festa a Montracone perché che festa era San Michele perché è il patrono di Montracone si lei quando è tornato a Ottavio ha notato qualcosa in Ottavio no non ha notato niente ho notato solo che come aveva detto in coppia e si aveva le scarpe si aveva notato una parte di scarpe quindi ha notato qualcosa e ma in lui non ha notato niente di strano no 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 era normale normale e si è cambiato le scarpe si e perché se le è cambiate eh ha visto come erano queste scarpe noi no ho visto solo che era andata sopra e se aveva lavato le scarpe e già vi sono andato quale le scarpe erano le scarpe ecco ma sono passate le ore quindi quando lei ha visto che suo marito non tornava lei cosa ha fatto io che ho fatto se mi sembra dice ma Ottavio ma perché non vuoi fare la mia zaffa questa dove sta perché qui già si è embriaca si può fare male oppure si dorme qualche pizza e non si sa no non mi preoccupare questa mia zaffa non mi preoccupare questa mia zaffa ecco quindi lei si è preoccupata un po' perché si è preoccupata è perché non ha giusto che non è perché qui quando è venuto con Ottavio si è embriaca quando è andato via con Ottavio si e Ottavio aveva bevuto no a casa si è bevuto due o tre bicchieri di vino non è vero che lei lo faceva bere no quel giorno non lo ha fatto bere niente mio marito quel giorno no no io parlo di Ottavio si si no quel giorno innamorò e mangiato perché mio marito è embriaca e lui andava sempre in un'interredo con il motoro quindi suo marito scompare scompare nel senso che non rientra a casa si ecco quanto tempo dopo la scomparsa di suo marito lei ha fatto la denuncia alla polizia alla mattina quindi tutta la notte è passata si tutta la notte perché come io ho detto stavo solo con me a casa e mi sono alla mattina mi ha detto mia sorella mi ha detto mi ha detto perché mio marito stanotte non si è ritirato si faceva una cosa del genere a casa pensa di no quindi lei ci è andata la mattina si ecco ma lei per esempio non ha pensato niente in quel momento no niente ho pensato solo che se fosse addormita a qualche parte questa è embriaca e basta si e ottavio le sembrava preoccupato io lo avremmo normato ma quando lei ha saputo che suo marito era stato ucciso lei ha avuto qualche sospetto no quindi non ha pensato che potesse essere il responsabile ecco ottavio era uscito con suo marito lei questo lo ricordava lei lo ha detto ai carabinieri quando lei ha fatto la denizia no non l'ho detto e questo ho sbagliato e perché non l'ha detto eh perché io già stavo non so distrutto tutta una nottata intera a aspettare mio marito boh non lo so per quale motivo non ha giurito non lo so manchi perché mi sentivo tutta sciocquata non sapevo che a lui poteva fare una cosa del genere però non ha detto ai carabinieri che era uscito a nottare no e marucchiello l'ha sentito per esempio fra il pomeriggio della scomparsa e la mattina no mai non l'ho vista non ha sentito marucchiello e non l'ha vista no marucchiello dopo l'arresto ha detto che lei gli ha telefonato per dirgli che era stato tutto fatto che era tutto a posto non è vero e poi ha anche detto che vi siete incontrati vicino casa no non esiste proprio questo e non l'ho visto proprio a lui lei quel pomeriggio stava a casa stava la mamma da ottava a casa io non ho uscito proprio da casa il ruolo che ha avuto marucchiello poi è stato definito dal nel corso del processo mi dica lui era vicino al maricio quindi mi ha telefonato ottavia ha detto come vuoi fare una cosa invece di maricio qualcosa mi ha portato vicino a cacciato il tuo marito quando le l'ha detto questo me l'ha detto che hai chiamato a casa io ho toccato il telefono quindi lei quando le l'ha detto? lo stesso giorno? non ricordo si è il stesso giorno oppure due o tre giorni due o tre giorni dopo non credo me l'ha detto lo stesso giorno forse il primo giorno quindi lei lo ha saputo subito che suo marito era stato ucciso perché io la mattina sono andata a casa ma mamma? si quando si lo sapeva non aveva la casa è andata alla casa ma non lo sapeva lei? no lei mi dice che marucchiello l'ha chiamata e lei ha detto ottavio mi ha detto che ha ucciso tuo marito si ma prima che due o tre giorni dopo è stato che si mi ha detto questo e lei cosa le ha detto? io ho toccato il telefono proprio il sposo e non è andata subito? non è corsa subito dai carabinieri a denunziare lei? no perché non lo ha fatto? è perché pensavo che lui scherzava non pensavo a una cosa del genere beh scherzava ma suo marito era scomparso c'era poco da scherzare su una scomparso si ma io non pensavo che lui sapeva una cosa del genere non immaginava vorrei sapere perché dopo la scoperta del delitto questi due ragazzi l'hanno subito accusata di essere la mandante di quel delitto perché così a nutrirci loro perché io sono nascente non so niente ma lei un'idea se la sarà fatta perché l'hanno accusato lei tutti e due subito? sai chi l'ha accusato? è perché lui dice ti siente basta è finito da mettere e lui ottavio dice non ti piglio il mio figlio perché ha capito il mio nebo ho dato questo che non mi poteva fare perché io non ho fatto niente di male lei sa chi l'ha accusata per prima? non lo so se lo ricorda? è stato marocchino è stato marocchino è perché lui dice ti siente è finito e basta adesso tiriamo un po' le somme di quello che è accaduto in questa storia lei si dichiara totalmente innocente si suo marito è stato ammazzato in più lei è stata condannata a 23 anni di carico si mi sono affamato 23 anni però sono nascente casa mia non ho trovato niente lei lei una volta mi ha detto che ci siamo incontrati in una delle volte che ci siamo incontrati lei mi ha detto con che spirito lei sconta questa detenzione? lei come la sconta questa detenzione? la sconta che non ho fatto niente mi hanno dato 23 anni innocente non ho fatto niente lei mi ha detto se l'avessi uccisa? eh si se l'avessi uccisa non prendeva proprio niente tutto quello che mi sei fatto se l'avessi ucciso lei non prendeva niente? perché secondo lei si è ucciso una persona e non si prende niente? si ma prendeva poco perché? è perché mio marito si è tutti i giorni ubriaco ma noi mi ha rompito tutta la casa mi minacciava mi ha fatto io minacciava i miei figli purtroppo quindi lei qualche buon motivo per ucciderlo ce l'avrebbe avuto? no no mai quindi lei questa detenzione la sconta? eh ma deve scontare non c'è niente che sentimenti prova lei per Michele Marucchiello? ora? no niente più gli serva rancore per averla accusata? per il fatto che lui l'abbia accusata? si è giusto le serva rancore? è logica mi è accusato senza niente io non ho fatto niente ma non ha più saputo notizia di... si lui mi scrive però io ho detto non mi scrivo più perché non ci sta più niente da fare cosa le scrive? è sempre una storia d'amore però io non... continua ad essere innamorato di lei? io no lui si e di Ottavio lei ha più notizie? no io non ho niente da allora che è stata... e lei serva rancore a Ottavio? aspiro l'ha accusata senza niente l'ha accusata anche Marucchiello? eh sì tutti e due senza che io ho fatto niente signora Petroni le sue figli come hanno vissuto questa tragedia? male male hanno sofferto tanto perché sa che la mamma lavora tutti i giorni per la mangiare fino a ora fatica e che mani i soldi i miei figli sì ma lei nutre rimorsi nei loro confronti? sì a chi sono stati affidati i suoi figli? mia sorella quanti anni hanno? parliamone un po' i piccolini all'ultimo dei otto anni poi c'è un bambino che è malato si adoperà il cuore e la terza dei dodici anni e poi l'ultimo proprio otto anni otto anni quattro sposati quattro sposati e... si sono sposati mentre lei era in carcere? tutti mentre lei era in carcere e hanno bambini sì lavorano? lavorano, ma i dragoni lavorano in cielo quindi nessuno di loro lavora? quando trovano la giornata vanno a lavorare quando no che devono fare e come campano? e come campano? ci mandano i soldi i miei figli con quello che guadagna lavorando in carcere? sì vengono a trovarla anzitutto? sì tutti quanti? tutti quanti è un buono entrare una o due è una o due è un'altra e tutti è un buono entrare però le sono rimasti vicini? sì sempre e lei però mi pare che ha avuto un permesso straordinario per andare a fare sì due permessi due o tre non mi ricordo ringrazio la dottoressa perché è molto umana e molto brava parla della direttrice? sì quindi lei si trova bene in carcere? sì mi trovo bene qua si trova bene in questo carcere lei cosa fa? io scopo la potella levo la polvere tutte queste cioè lavora in fondo come se fosse a casa sì ecco lei deve ancora scontare molti anni di detenzione sì ho fatto quatt'anni tutti i giorni penso cinque anni tutti i giorni se lei potesse chiedere qualcosa per sé che cosa chiederebbe? la semia libertà sono i miei vicini e i miei figli che sono piccoli non ho bisogno della mamma questa passione per Marucchiello lei costata 23 anni di carcere no centamente ma ne valeva la pena? ma ne valeva la pena? no la pena no perché oggi è stato un momento che io stavo ci conforto mio marito mi rendeciva affetto stavo tutti i giorni impiato anche per quelle parole che ti rende con forte lei afferma di essere innocente? sono innocente ma una donna che abbia realmente fatto uccidere suo marito lei a che pena la condannerebbe? beh io non l'ho fatta uccidere la domanda è un'altra ah lei afferma di essere innocente una donna che abbia realmente fatto uccidere suo marito a che pena lei la condannerebbe? ma questa donna pur che si ci baglie che fa uccidere suo marito mi che pazza questa donna penso che ci sta qualcosa che non lo so lei la giustificherebbe? no io questa donna che fa questa deve essere una condanna molto grande che condanna le darebbe? è giusto la condanna più grande che ci sta le basta eh perché si lo so è giusto l'ho l'ho che l'ho 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.